Castello, bravissimo. Crespo, ma da filtrante per la bambina che non avrà problemi da qua. E ha il solito problema della mira un po' fuori porta. Amici, un saluto da Gecko e Max, benvenuti e bentrovati. Oggi andiamo avanti con la retrocarriera del Parma su ISS Pro Evolution 2. Vediamo quale grande sfida ci attende oggi. Spero sia spettacolare, vincente e combattuta. Non so neanche contro chi siamo. Siamo contro, questo è il Leeds. Vediamo dunque come va. Allora, abbiamo un po' di cambi rispetto al solito. Vedete, abbiamo Miranda in campo, abbiamo Cedro fuori in pessime condizioni. Mentre Roberto Carlos è ancora infortunato purtroppo. Dunque, Schilawert, Stromer, Ducicca, Navarro, Davids, Beckham, Zidane, Miranda, Crespo, Castello e Babangida. Contro il Leeds guidato da Martin, Wuncet, Radebe, Hart, Diarichelli, Hilland e Ribbacche, Wilcox, Boyer, Kiewel e Martius. Come forma fisica. Molto bene, era molto bene. Ho dovuto togliere però Clarence Lino. Provremmo a fare meno senza di lui. Faremo meno di lui. Però oggi proviamo. Il pubblico che già applauded inizia la partita. Leeds, Parma. Guardalo, Davids. Zidane, Babangida. Vediamo un po' se riesce a fare o se... Non riesce al momento. Dunque. Palla, Valiz. Vediamo quale delle due squadre farà il primo tiro in porta. Sono curioso. Non che cambia qualcosa ma... Forosità personale. Castello, bravissimo. Crespo. Ma da filtrante per Babangida che non avrà problemi da qua. E ha il solito problema della mira un po'. Fuori porta. Peccato. Questo è un grave errore. Era anche da fermo qui. Non aveva il dilemma della corsa. Ho sbagliato. Castello. Spaglia malissimo il passaggio. Ovviamente malissimo. Crespo. È un giocatore dinamico. Non sta lì a guardare. Davids Beckham. Niente da fare. Viene battuto da Gary Kelly. Attenzione. Beckham ha giocato in Premier League. Quindi i giocatori rivali li conosce. E voi? Li conoscete del Leeds. Che mi viene in mente? A me viene in mente Keywell. Bravissimo. Bravissimo giocatore. Sto cercando di capire chi sia Martius, l'altro attaccante. Potrebbe essere un nome come Martius. Magari. Gary Kelly. Gary Kelly. Ci siamo. Sheila Wirt. Cioè. Stiamo rischiando. Però. Situazione intensa. Sicuramente. Le prime battute sono state buone. Non ottime. Fallo non grave. Non dal cartellino. Ok. È sempre nostra. Ma sono ancora loro lì. Gary Kelly. Vuole fare tutto lui. Stromer. Spazza via. Non vuole fare tutto da solo. Noi almeno giochiamo come una squadra. Cosa molto buona. Giocare come una squadra è un gran bel vantaggio ragazzi. Ma. L'amico invisibile però no. Soprattutto da lì. L'ha passata fuori. Cioè. Ma ha fatto come se ci fosse veramente un giocatore. Avete fatto caso. Come se si fosse girato verso qualcuno. Che però non c'era. Non so come mai. Di solito non accade. Di solito lo sparano così. Di solito si è proprio anche girato. Proprio. Con convinzione. Tieni. Becca. Vorrei sempre giocare in fascia. E centralizzarmi un po'. Cioè. Per me va bene giocare in fascia. Quando c'è Babangida. O Roberto Carlos che adesso è ormai infortunato. Chissà per quanto. Poi mi tocca comprare un attaccante. Se va avanti così. Ma non lo so neanche io. Perché adesso non mi serve l'attaccante però. Vediamo. Vediamo. Male che vada. Vado un po' low cost. E prendo un giocatore appunto. Da non spendereci troppo. Tanto che poi prendo un difensore. Tengo qualcosa anche per un attaccante. Vediamo. Cannavaro. Zidane. Miranda. Babangida. Bello. Ma non la conclusione di Crespo. Troppo centrale. Peccato. Di solito Crespo qua ha dei tocchi da biliardo. L'avete visto tante volte nelle mie partite. A chi la crossa? A nessuno. Non da prendere. Peccato ragazzi. Peccato. Partita con occasioni. Sprecate. Attenzione a Wilcox. Hmm. Pericoloso. Ma siamo noi per andare. Miranda. Miranda vedete che. Miranda fa bene sul lavoro. Non c'è un campista offensivo. Vai Castello. C'è un'avviso. Infatti. Davids. C'è un'avviso di Dania. Ha spostato un pochettino. Babangida. Babangida. Che erroraccio. Per il backup. va me l'ha falciato ragazzi. L'ha falciato. Proprio bella. Babangida. Che tiro purtroppo a roteare. Peccato ragazzi. Spreccare occasioni così mi spiace. Abbiamo già buttato via 45 minuti. Molto utile. Molto utile. Davids. Che la diamo. Non so se facciamo in tempo fare un'azione. Io provo a farla centralizzare. Ma è. Da fastidio quando la fischia. Che stai facendo l'azione. Sei proprio lì. La stai creando. Allora vediamo un po' come va. Secondo tempo. Siccome sarà molto interessante. Questa situazione che si è creata. Questi gol mancati del primo tempo. Per il resto invito chi vuole. Chi può. Se vi piace questo video. A lasciare un like. Per supportare il video. Progetto. Canale. E anche il retro gaming. Che sempre. Una bella passione. Grazie di cuore. Chiunque lo faccia. Ovviamente se non siete iscritti. Invito a seguire il canale. Per tanti. Tanti contenuti. Signi e differenti. Ci sono veramente grossi sorpresi. Ma non volevo di dire. È così. Spiacevole scoprire le cose da se dire. No. Ma c'è questo progetto. Non ci credo. Non lo sapevo. Un po' bella. Hai detto. Già. Faccio poca autopromozione. E anche. Che è una partita. Svantaggiosa. Di cui occuparci. Veramente. La partita che sullo 0-0. Sta diventando piatta. E io voglio togliere il piatto. E renderla. Qualcosa. Di immemorabile. Immemorabile. Crespo. La Vangida. Ovviamente c'è. Oh. Meno male che almeno da qua non me la butti fuori. Bravo. Scusami. Per aver dubitato di te. Scusami. Vantaggio. È una macchina da guerra. È una macchina da guerra. Parma che c'è. Si dice sempre. Chi la dura la vince. E vediamo un po' se sarà vero. Miranda. Perso. No. Però guarda Castello. Vai. Un'occasione della vita. Gliela tiri in bocca. Castello. Tu dovresti essere. Colui che sostituisce Roberto Carlos. Che poi in realtà. Eri l'originale. Del gioco. Da ciò. Dovrebbe essere il trascinatore. E ci credo che il Parma ha fatto passi da gigante. Da quando abbiamo preso Babangida. Prima. E Roberto Talosso. Ci credo. Ma andrò Babangida. Oh beh. Adesso lì si è sciolto un po'. Non è vuol dire molto. Possono sempre farlo un gol ma. Eccoci qua. Wilcox. Davids. Bravissimo Davids. Spazza via. Edgar Davids. Zidane. Andiamo per la Babangida. Promettici una bella crossetta. Ora un bel cross. Angolato bene. Ottimo. Magari parate del portiere. Ed è angolo. Pericoloso. Ma non abbastanza. Davanti. Stromer. Eh. L'ho preteso troppo da un difensore. Mi ha dato tante soddisfazioni. Idun. Entra al posto di Gary Kelly. Ventitresimo. E vantaggio di misura. Non il solito Parma. Uno che fa l'antaggio di misura. Stiamo giocando. Fallato senza Clarence. L'ho affidati. di ammirare. No, 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 no. Che brutta situazione. Ok, vai. Bravo Babangida. Fallo. Va bene. Chi è che tira? Ho messo Zidane. Ci proviamo? Perché no? Pischia, dai. Mi lascio ancora tirare. Ora sì. Passa, passa. Peccato, attenzione. È possibile contropiede del Litz. Prova disperatamente. Eccolo Babangida. È tornato il Babangida, riconosciamo. La macchina da guerra colpisce ancora. Grande. Macchina da gol. Sarà il più bello. Non ci sono guerre in campo, anzi. Va bene. 2-0. Finalmente il Parma lo riconosco quando gioca così. È il Parma che dico, questo è il mio Parma. Non è... L'ho detto. È domingo. È rivisto proprio come qualcosa che mi è rimasto impresso. Il Parma ha il marchio di qualità. Giocare bene o non giocare proprio? Assolutamente. Scendi in campo con la mentalità vincente. Dove non dici. Ma sì, ho fatto il gol. Cavolo, dovrei applicarlo alle mie altre carriere. Ma le mie altre carriere sono nostra squadra. Ma non è vero, dai. Il Bari su 2001 è devastante. Fa tremare il mondo. Guarda lo Schiraverto. Fa poco. Ma quel che fa è abbastanza. Assolutamente. Non mi posso lamentare di Schiraverto. Edgar Davids. Miranda. Bella. Ma Vanghida. No. Come ha allargato le gambe e non gli è passato. Oltre. Vabbè. E soprattutto un Parma che sul 2-0 e ancora il 2-0 non si accontenta di nulla. Questo mi piace. Questo mi piace. Guardate. Dico che Litz sta facendo un buon lavoro. Sono onesto. Litz non sta giocando male. Litz non sta per niente giocando male. Però è come squadra non mi è piaciuto affrontarla. L'ho trovata una squadra insidiosa come difesa. Veramente. Su tutte le palle. Però poi. Acceduto. Vedete. Sempre. Niente da fare l'1-2 non va. A me l'1-2 piace. Lo so che le dicono che facilita il gioco. È vero ma. Quanto è bello da usare. Quanto è tattica. Quanto è bello. Quanto migliora proprio la qualità strategica di un 1-2. La profondità. È fantastico ragazzi. Se mi piace il calcio un 1-2. Visto così. Come è fatto in questo gioco. È qualcosa di bellissimo. Di una naturalezza poi. 2-0 va bene così. Davan Gida. Davan Gida. Assist in Crespo. E Miranda. Bravo Miranda. Bravo Miranda che torna a fare assist dopo tanto tempo. Bravo Miranda. Sono soddisfatto. 10 punti. 33. Andiamo. Andiamo a vivere. Perché l'avevo detto. Quando dico una cosa. Cerco di farla. Un certo Paolo Maldini che costa 32. SB. Tanto. Vuol dire semplicemente. SB. SB. Quindi sei laterale Maldini. Aia. Vabbè ma tanto va bene lo stesso. Onestamente. Onestamente. Per come. Per dove lo piazzo io? Eh no. Eh no ragazzi. Allora facciamo così. Andiamo sull'Italia. Abbiamo Alessandro Nesta. Che cd. Al momento facciamo questo cambio qua. Strome non lo voglio ancora togliere. Quindi mettiamoci Nesta. Può arriverà anche Maldini. Arriverà anche lui. Non è un problema. Nesta numero 13. Penso che. Il 13 sbaglio l'abbiamo dato a Babangida il 13. Eh ricordiamo bene. Eh Nesta gli troviamo un numero un po' più bello del 17. Un 15. Un 4. Non suona tanto bene ma 4 e 5 dai. Va bene. È un Maldini 3. Ok va bene ragazzi. Vediamo i risultati. Abbiamo anche Nesta. Siamo a 10 giocatori su 11 in campo. Titolari veri. Allora. Mon Munchen 2-3. Leverkusen. Liverpool 2-3. Parma Leeds 2-0. Monaco Milan 2-1. Chelsea Ajax 2-2. Barcelona. Lazio 2-3. Inter. Juve 2-1. Che partite. West Ham Real Madrid 2-2. E questa è la nostra classifica. Vi lascio con questa. Grazie di tutto. E alla prossima.